buttati giù buttati per terra buttati per terra dai 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 sì e quindi ma guarda questa e allora che novità è questa che ti butti per terra che novità che novità vuoi grattini sul pancione sul pancione li vuoi ciao perla basta il ginocchio maggio cristo sì mi dai ok mi dai la zampa e quindi mi è andata una botta sul penne e quindi attenta che ti prendi sì sì mi dai la zampa e quindi la mia zampa la mia zampa è così e dopo e dopo che facciamo che vuoi quindi ok ma guarda un po' come sei diventata basta vai ok 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 ok